E allora il mordente numero 43 registrato il 23 ottobre 2019 ancora alle 13.31 ho detto ancora perché non vedo l'ora che arrivi natale che arrivi dicembre che arrivi quel periodo là di capodanno perché mi ricorda prima di tutto l'anno scorso quando proprio in quel periodo avevo aperto il sito riccardo.im che era diverso da quello attuale era soltanto diciamo il portfolio avevo appena lanciato il podcast e mi ricordo stavo leggendo il libro quiet ricordate quello quello che poi mi ha portato a scoprire che siamo tutti introversi non siamo una community di introversi insomma fu un periodo un po strano ero fermo non potevo correre andavo in bici ricordate sono tutte cose raccontate nelle prime puntate ma poi io adoro quel periodo natalizio quel profumo quando uno la sera si mette là e scuote la tovaglia sul balcone sente l'odore di umido l'odore di di bruciato che arriva da qualche fortunato che anche in città è riuscito ad avere il cammino e la sera se lo accende non c'è nulla di più bello di questo no anche per citare ancora una volta vannegat ma poi natale significa anche correre la mattina quando fa davvero freddo quando non c'è nessuno e ti copri bene e dopo mezz'ora sei ancora lì tutto un po un po incastrato significa andare al supermercato e trovare mille mila palettoni in offerta proprio quando si tratta di essere a ridosso di natale ho mille mille aspettativi e prima cosa voglio sistemare definitivamente delle cosette che sono in sospeso sul il sito la modalità dark la ricerca tutte queste implementazioni che sono rimaste qua in locale sul mio vs code e poi voglio correre soprattutto piano e tanto chi mi segue su strava sa che ho già iniziato a far questo questa settimana in realtà sabato sarò a francoforte per la maratona ci sarà domenica che correrò ma soltanto così no alla buona come ho detto senza pretesa di tempo ma probabilmente senza finirla anche perché non voglio stressarmi troppo ma in questa settimana sto facendo appunto solo corsa lenta solo jogging e mi sta piacendo io sono un idiota perché fino all'altro ieri ho sempre detto no io corro soltanto velocemente o faccio la preparazione o lo faccio sul serio e come al solito poi uno col tempo nel tempo capisce che la maggior parte di quel che credeva è una cavolata perché tutto cambia e bisogna semplicemente capirlo il prima possibile mi piace correre la mattina piano non posso correre forte perché ho ancora un po' di dolore se aumento ma dato che mi sto trovando anche senza musica perché i due garmin che ho hanno entrambi un bug con spotify è una cosa brutta che sta succedendo adesso se cercate online sui garmin insomma lo trovate un po' in breve sono senza musica devo andare piano non posso fare più di un'oretta diciamo e quindi mi metto là e mi e mi rilasso e mi sta piacendo dopo mezz'ora il corpo si scalda e voi vi trovate là a correre al buio in silenzio fuori dai parchi perché i parchi almeno qua a roma sono ancora ancora troppo scuri non si vede la strada quando andate a correre così presso e quindi è tutto un altro mood è tutto un altro un altro approccio è tutto un altro contesto entrate lo stesso nel piacere della corsa anche andando molto molto piano mi fa comunque comunque star bene che mi dà lo stesso livello di endorfine di delle ripetute degli allenamenti della gara e di tutto il resto insomma ci lavorerò un po' ho appena finito di inviarvi la newsletter per segnalare la pubblicazione della recensione che ho messo online ieri sul pinkbook 13s mi fa piacere che vi sia piaciuto quel prodotto perché ci ho puntato parecchio mi è sembrato una macchina che ha quel prezzo con quelle caratteristiche soprattutto con la possibilità di aggiornamento nel tempo fosse meritevole di parecchie attenzioni e mi fa piacere che siamo allineati da questo punto di vista così come mi fa tanto piacere avere ricevuto nuovi utenti in questi ultimi diciamo sette giorni dieci giorni ovvero da da dopo il festival del podcasting dopo la pubblicazione della puntata con il mio talk a milano sono entrate nuove persone ho ricevuto tante nuove nuove mail o comunque nuovi messaggi al 351 851 6089 e proprio a queste persone io ricordo due cose che il mordente si può ascoltare anche dagli smart speaker alexa o google home con la skill che si chiama il mordente o con la action che si chiama il mordente podcast vi basta poi seguire le istruzioni a voce per ascoltare l'ultima puntata oppure fare una ricerca e via dicendo e ricordo anche che siamo vicini anzi sono vicino alle 300 recensioni su itunes quello che adesso si chiama apple podcast e quindi se vi manca mettere una valutazione darmi queste linee magari ecco è il momento giusto per farlo come ricompensa oggi vi parlerò soprattutto soprattutto di libri perché ho avuto più tempo per girare nei mercatini ho comprato delle nuove cose sia in digitale sia in cartaceo e quindi ho un bel po' di consigli anche negativi devo dire c'è una cosa che non mi è piaciuta da darvi però prima voglio iniziare facendovi ascoltare questo messaggio vocale in realtà sono due messaggi vi faccio ascoltare quello di un utente di cui non conosco non conosco il nome perché non me l'ha detto però rispondo poi dopo anche al commento di di andrea che mi chiede diciamo qual è il momento giusto per cambiare lavoro oppure cosa fare per portare su un livello un po' più alto no quello che già sto facendo e magari appunto aprire nuove prospettive sentite ciao riccardo un mesetto e mezzo fa ho aperto il podcast il mio podcast volevo volevo sapere qualche qualche consiglio ecco che ovviamente tu hai una fanbase ma perché comincia come si fa a far girare veramente qualcosa un contenuto perché nonostante studi comunicazione eccetera ecco vedo che c'è molta reticenza ad ascoltare nuove cose ciao riccardo stavo ascoltando la tua ultima puntata del podcast soprattutto il punto dove dici che hai passato un momento un po' difficile nella tua vita lavorativa diciamo che lo sto passando un po' io in questo momento volevo chiederti che cosa è stata qual è stata la molla che ti ha fatto cambiare qual è stato il modo che hai scelto per poter dire adesso faccio questo grazie allora qua vi devo rimproverare non sto scherzando e dico vi perché questa è una domanda che mi fanno tante persone in momenti diversi ho aperto il podcast ho aperto un blog ho aperto il canale youtube da un mese un mese e mezzo due mesi come faccio a farmi sentire a farmi guardare nessuno lo fa e non c'è seguito è normale che non c'è seguito ma la dovete smettere di pensare prima alla distribuzione poi al contenuto il vostro il nostro unico obiettivo deve essere quello di portare qualcosa di qualità di concentrarsi sul contenuto di aggiungere qualcosa a quello che già c'è di riuscire ad esprimere quello che noi siamo e fare in modo che arrivi nella modo nella maniera che noi vogliamo agli altri questo è l'unico nostro obiettivo non fissarti sulle su come faccia distribuirlo non è quello che fa la differenza perché magari riesci una volta a beccare un argomento di moda che ti tira sul podcast che ti tira sul canale ma poi finisce là magari riesci a metterci una buona sponsorizzazione su youtube e quindi fai 30.000 visualizzazioni a livello di guadagni non fai una lira perché con 30.000 visualizzazioni fai 5 euro e gli utenti poi si cancellano non ti seguono il tuo unico obiettivo soprattutto quando una persona deve farsi conoscere quando una persona è nuova è fresca è portare qualcosa di diverso è portare qualcosa di qualità e concentrarsi esclusivamente lo ripeto ancora una volta sul contenuto tutto deve essere indirizzato al contenuto poi una volta che c'è quello si trovano le distribuzioni si trova il modo per arrivare si trovano gli utenti si trova la propria via per farlo per farlo per andare in comunicazione come dicono gli esperti di marketing è una cosa odiosa questo andare in comunicazione però rende un po un po l'idea è possibile che serva un mese è possibile che servano sei mesi è possibile che servano dieci anni come è successo a me ma la via breve non esiste chi cerca di venderti un approccio del genere te lo sta appunto appunto vendendo e poi per rispondere alla domanda di di andrea ecco devo dire che in base alla mia esperienza se vuoi cambiare lavoro se sai che quello che stai facendo ha la vita a breve se sai che poi alla fine la tua decisione sarà quella di cambiarlo sarà quella di prendere appunto una via diversa fallo il prima possibile alleggerisci il tuo animo da mesi che sarebbero sarebbero comunque pesanti che sarebbero comunque importanti per la tua crescita perché magari ti trovi poi in un momento in cui riesci ad assorbirli più del previsto ecco questa è una cosa che è successa anche a me magari tu in un momento della tua vita sei in grado di no lasciarti scivolare addosso tutto e quindi dici vabbè mi faccio un altro anno e provo ma ci sono dei momenti in cui questo scivolamento questa cera quest'olio non ce l'hai sulle spalle e tutto ti cade e tutto ti resta lì ed è possibile che poi serva davvero molto molto più tempo del previsto per mandarlo via per ritornare leggero e ritornare al punto in cui pensavi di essere quindi se vuoi cambiare lavoro e se sei convinto sei sicuro che è la cosa che alla fine farai che andrai a sbattere contro quel muro fallo il prima possibile prima lo fai prima puoi ripartire prima lo fai e meno corrompi la tua anima come ti ho ti ho risposto come ti ho risposto in privato poi nel tuo caso ecco dato che si parla di audio insomma l'audio è in espansione in incredibile soprattutto in italia anche al festival del podcasting c'è stato il talk no di spotify che ha parlato moltissimo dei dati di ascolto europei e italiani e noi siamo ancora a zero siamo ancora davvero a zero è un po come la youtube di dieci anni fa di quindici anni fa rispetto alla youtube diciamo internazionale noi non c'eravamo eravamo nulla ecco a livello audio siamo su quel livello là siamo su quella strada là ma passiamo ai libri dai 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 che non vedo l'ora mi sono piaciuti due nuovi titoli in particolare tra i mille mila che ho preso in queste due settimane non so più dove mettere i libri sto portando ai vari mercatini un po di vecchi fumetti insomma cose non di valore per liberare spazio perché davvero non so più dove infilarli e preferisco ancora la carta al digitale per quanto sia adesso mai come in vita mia pieno di ebook da leggere perché li sto comprando un po su kindle perché li sto comprando un po su covo insomma ho sempre in mano qualcosa perché mi trovo spesso in giro e quindi voglio sempre avere tutto a portata di mano ma quando vado al mercatino e trovo cose a poco prezzo ad esempio l'altro giorno ho trovato un sacco di letteratura russa tra un attimo ne parleremo a due lire vi ho messo anche la foto su instagram e come faceva lasciarla là dei libri delle edizioni da edicola ancora con il cellofan sopra e per esempio l'altro giorno ho trovato nuovi strennolivetti no al mercatino e anche là li ho presi nuovi praticamente la mia collezione si sta pian piano riempendo no e come faceva lasciarli là e poi anche qua su instagram vi ho fatto vedere che mi è arrivato il primo numero di asimmetrie il mio primo numero la rivista gratuita dell'istituto di fisica nucleare stampata in una maniera meravigliosa con una carta spessa davvero andate su instagram c'è un piccolo video la potete richiedere gratuitamente anche voi ci sono tutti i riferimenti là però prima di tutto questo vi voglio dare una raccomandazione negativa ovvero torno un po indietro su un libro che vi ho consigliato ovvero su cronosisma di kart vannegat non mi sta piacendo sono davvero ripartito tra quattro volte a leggerlo sono a pagina 190 ma ho una fatica incredibile non riesco a stargli dietro non credo che sia il libro un problema di tempistica ecco diciamo il libro sbagliato al momento sbagliato perché ho scoperto vannegat riscoperto meglio vannegat da da poco quando ho ascoltato l'audiolibro come vi ho detto tempo fa e quindi sono proprio nella fase in cui mi interessa sapere quello che lui pensa e quello che lui scrive soprattutto in questo cronosisma che è l'ultimo libro scritto ma davvero non mi entra non mi entra non riesco a farlo entrare nel mio modo di fare ho provato a leggerlo la mattina ho provato a leggerlo la sera ho provato a leggerlo a pranzo e l'ho rimesso adesso adesso in stand by soprattutto perché nell'ultime 48 ore mi son letto Oliver Sacks gratitudine un libricino ad elfi che saranno un 60 pagine che ho trovato al mercatino fantastico conoscete Oliver Sacks no sicuramente è lo psichiatra che ha scritto millemila libri tipo l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello dai è super super famoso e questo libricino gratitudine contiene quattro scritti fatti da lui negli ultimi due anni di vita il primo è scritto a pochi giorni dal suo ottantesimo compleanno e gli altri tre sono dopo aver capito che il suo tumore stava peggiorando e soprattutto quando gli ultimi due sono scritti quando lui sapeva già di avere i giorni i giorni contati sono dei bellissimi bellissimi testi davvero che consiglio di leggere di leggere a tutti a me lui non piace i suoi libri non mi hanno mai preso mi sono sempre trovato là quando li stavo leggendo ci ho provato diverse volte negli anni a dire ma perché sto leggendo questa roba cosa mi dà in più però questo gratitudine se lo trovate ad elfi piccolo stampato bene molto grosso anche come font la serenità di quest'uomo a 80 anni che è pronto ad andarsene convinto di aver di aver lasciato qualcosa di aver fatto quello che voleva fare e soprattutto con una buona forma fisica fino alla fine fino agli ultimi giorni e poi andiamo avanti perché al mercatino ho trovato tantissime altre cose il primo libro di cui voglio parlare è i russi sono matti di paolo nori corso sintetico di letteratura russa 1820 1921 io adoro paolo nori ne abbiamo parlato tante volte ma questo libro che scorre in una maniera incredibile sono 200 pagine ma si legge veramente in un pomeriggio perché tanti capitoli tante pagine sono a metà anno e poi è scritto davvero davvero leggero vi dà mille spunti sulla letteratura russa su come vedere in maniera diversa i racconti di tostoi i racconti di tostoieschi ma i racconti anche di autori un pochetto più di nicchia insomma cose un pochetto meno meno note i consigli su come partire se non avete mai letto un romanzo russo vi dà una prospettiva che è più più vicina alla vita reale di questi autori per poi comprendere meglio i loro no i loro testi bellissimo è pieno di citazioni ho sottolineato mille cose non vi dico nulla per non togliervi il piacere di sfogliarlo e di tirarci fuori qualcosina in particolare la recitazione che ho usato ieri nella recensione al think book sul maestro e margherita è presa proprio da qua ma è un libro che dovete assolutamente prendere è uscito poco fa tra l'altro a settembre 2019 tra l'altro è un libro della serie utet edito da utet e quindi avete compreso nel prezzo anche le book wow è un altro libro ancora preso a mercatino è l'autostima di maria miceli della collana il mulino farsi un'idea sicuramente l'avete vista in mille parti un libro piuttosto vecchio del 98 che ho trovato anche là a due lire ed è un libro che vi spiega come funziona l'autostima alta o bassa stabile o fluttuante autentica o illusoria come influenza il nostro benessere psicologico in questo libro che non è difficile lo voglio dire un libro che si può leggere senza avere conoscenza approfondite sull'argomento semplicemente da curiosi vi dà molti spunti su come riflettere sul nostro livello di valutazione sull'autovalutazione sulle nostre aspettative e di conseguenza su quello che ne viene fuori a livello di autostima che può essere specifica che può essere globale che può essere influenzata da mille cose lo consiglio anche a chi adesso magari a un bambino a chi sta per avere un bambino e vuole avere qualche dritta in più su come comportarsi con lui chiaro ci sono dei testi molto più settoriali su questo però questo libro dà qualche idea anche là su come no magari non influenzare in maniera negativa o troppo positiva l'autostima o comunque le aspettative di un bambino di una mente che ancora può essere può essere influenzata in tanti modi un bel libro davvero maria michelli tra l'altro ne ha scritti altri sempre della collana il mulino su su amazon si trovano un po ovunque questi libri tra l'altro questi libri sono disponibili in forma gratuita su audible in formato audiolibro in questo momento non ho trovato l'offerta che che vi ho proposto tante volte quella dei 90 giorni gratis no su audible però visto che un po che non arriva magari tra qualche tempo arriverà quindi se vi iscrivete al canale telegram prometto di aggiornarvi appena sarà sarà disponibile comunque questi libri già da soli valgono diciamo un mese di abbonamento audible ve ne ascoltate un bel po chiudiamola qua ho parlato tantissimo vi ricordo che il 26 ottobre c'è linux day quindi in qualsiasi città o qualsiasi paese vicino a voi ci sarà qualcuno disposto a spiegarvi quali sono i vantaggi di linux magari ci saranno anche quelle sessioni in cui voi portate la computer e loro vi installano una distro al fianco del vostro sistema operativo attuale se volete insomma è il momento buono per informarsi il linux day il 26 ottobre io purtroppo sarò purtroppo insomma va bene così sarò francoforte per la maratona ma insomma non sarò qua a roma ad uno dei tanti lug mi dispiace a saperlo prima davvero avrei organizzato le cose in maniera diversa però chi c'è visto che sabato si può assolutamente organizzare per andarci è uscita la nuova ubuntu in questa settimana davvero davvero bella la 1910 consiglio a tutti come ho già fatto su twitter di installarla e di provarla perché più veloce perché più moderna soprattutto nelle tecnologie che utilizza con il kernel con il supporto da zfs sperimentale con tante cose belle quest'anno anche con dei buoni sfondi con dei buoni wallpaper e quindi davvero non ci sono più scuse per non implementare una distro linux all'interno del nostro modo di fare del nostro lavoro e quindi avere più competenze provare qualcosa di diverso non dover pagare le licenze liberarsi magari dal peso di un sistema operativo che ci portiamo dietro da una vita e soprattutto abbracciare l'open source che è una delle cose che davvero vi cambia la prospettiva informatica anche chi non è un appassionato può trovare nuovi lavori può trovare nuove nuovi modi di utilizzare gli strumenti che abbiamo in mano tutti i giorni o comunque di comprenderli meglio che poi è la cosa che più ci piace va bene va bene va bene va bene la chiudo la chiudo ciao